Le lacrime di Maddalena Svevi, eliminata a passo dalla finale di Amici 2023. Maddalena Svevi è stata eliminata a un passo dalla finalissima di Amici 2023. L'allieva di Immanuel ha dovuto abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi per effetto del voto della giuria composta a Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffre. Un risultato amaro per la ballerina che si è dovuta confrontare con due colleghi considerati più bravi. Isobel Chinnere e Mattia Zenzola, che infatti hanno guadagnato la finale, ha preso il risultato della sfida che l'ha vista a confrontarsi con i cantanti Arone Wax che ha sfidato per provare a guadagnare l'ultimo posto in finale Maddalena si è sciolta in lacrime. È accaduto perché i posti in finale sono quattro. Solo per questo, la consolata Maria De Filippi. A volere Maddalena ad Amici è stato il coreografo e insegnante di danza Immanuelo che fin dall'inizio dell'anno ha investito sulla ballerina. Il suo percorso nella scuola è stato ostacolato da Alessandra Celentano che non la riteneva all'altezza di confrontarsi con Isobel. Sua allieva, Maddalena ha spesso sofferto dei giudizi della coreografa e del fatto di non essere mai riuscita nell'intento di farle cambiare idea. Ballerina nata a Genova nel 2005, Maddalena svevi bala fin da quando era solo una bambina. Dopo avere frequentato la Naima Academy, Maddalena riesce a entrare a far parte del prestigioso Experience Dance Company. Noto percorso professionale dedicato a giovanissimi talent nel mondo della danza. Nel 2020, Maddalena ha fatto parte del corpo di ballo del cantante mascherato. Il format condotto da Millie Carlucci in onda su Rai 1. Maddalena ha partecipato anche allo spettacolo teatrale Un papà sotto l'albero ed è stata protagonista del videoclip di Perfetta Così. Canzone di H7 e Vena. Nella scuola di amici è vissuto una storia d'amore con il collega Mattia. Lasciato dicembre a due mesi dall'inizio della loro storia.